24.150 euro, tanto è stato raccolto con il gioco La Piacenza, città delle 3C, un'iniziativa promossa da Piacenza Cultura Sport che è andata molto bene. Un successo veramente grande grazie agli sponsor, grazie ai tanti volontari, ma soprattutto grazie a Piacenza che si è mostrata ancora una volta solidale e che ci ha dato una grossa mano per raccogliere questa cifra, quindi grazie ai piacentini. L'autismo è una malattia sempre più diffusa e le famiglie hanno bisogno di essere aiutate, quindi questa somma che ricevete è davvero molto importante. Sì, per noi è stato un successo, oserei dire, strepitoso. Questa somma servirà per dare continuità, che per noi è fondamentale, dare continuità ai progetti che abbiamo iniziato e che vogliamo continuare nel tempo, per dare anche a questi ragazzi una certezza, placare un po' delle loro ansie, perché per i nostri ragazzi che hanno grossissimi problemi di inclusione, sapere anche come saranno le loro giornate, come sarà il loro tempo libero, chi saranno i loro amici, per loro è fondamentale. Quindi noi nella nostra sede, che ci è stata donata dall'amministrazione comunale, portiamo avanti dei progetti nel tempo libero, che sono i sabati, i fine settimana, noi portiamo avanti i progetti a Natale, a Pasqua, facciamo i centri estivi per i nostri ragazzi durante l'estate lunghissima. Noi cerchiamo di dare un sollevo a questi ragazzi con gli amici e portarli anche a fare una vacanza. I nostri ragazzi sono molto impegnativi e quindi per questo, per le loro problematiche, per i problemi comportamentali che hanno, sono seguiti da educatori specializzati. Sono educatori che li aiutano a educare alla vita. Sono cose che noi pensiamo scontate per i nostri ragazzi, stare insieme agli altri. Non sanno cosa sono le regole i nostri ragazzi, quindi bisogna educarli a tutti. Ci vuole persone vicine, educatori, qualificati, che li educano alla vita e li accompagnano nei vari percorsi della vita, in compagnia, quando si fanno le uscite sul territorio, per imparare a farsi un panino, fare una pizza in compagnia e giocare insieme. Cose scontate, ma che per loro sono fondamentali. Visto che questo gioco ha riscosso così tanto successo, non finisce qui, c'è un seguito. Sì, sono due principalmente le grandi novità. La prima consiste finalmente nell'uscita delle espansioni. E parliamo di tre espansioni. 45 nuove domande, col tema percorsore di Colombo, con i piacentini, che sono andati prima della scoperta dell'America in tutto il mondo conosciuto. E poi due nuovi tabelloni. Uno dedicato all'autismo e uno dedicato invece all'antico mestiere della Rotino. Ed in più, abbiamo poi deciso e concordato in questi giorni, il 23 aprile, proprio in Piazza Cavalli, organizzeremo il primo torneo del gioco. E nella stessa occasione organizziamo anche un'esposizione con le gallerie d'arte di vari artisti loro. E in più c'è anche un concorso nazionale che viene organizzato dalla Roberta Braceschi. Grazie.